quindi così io parlo lì figo questo mi piace posso cantare pick up the pieces and breaking my heart ok ah quindi io sento la tua voce qua però poi viene cioè tu mi fai le domande però poi le metti la gente sentirà cosa mi chiede quindi va bene quando vuoi sì e ma ovviamente ogni storia inizia da direi che è tutto